Salve! Devo mettermi in posa? Se io mi andormenti a posa la testa sentite che non ti conosco l'unico? Eh, ci sono io. Però vabbè, mi diranno niente. Perché siete niente? Sì, vogliamo niente. Poi io ho un'altra cosa. Io sono andato nella campanella. 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 E una carriola nel campanello. E una provincia anche. E una dyingatura nel campanello. E diventa la balpone. Io siamo andato nella campanella. Qui sono andato nel campanello. E ovviamente istone noree al campanello. E poi è in gradoo dal Franco. E noi siamo andati in grado in grado E poi, e contattawa al estaban qualsiasi. Io non arrivo… E in gradoo di grado完成. E' pronto come su un sabattone. Nathalie! Nathalie!